Dottor Fabrizio Miani Canevari, lei è stato autore di diversi contributi monografici sul tema del diritto di lavoro e previdenza sociale, quale sarà il suo contributo nella presentazione del libro? Il mio contributo si limiterà a cercare di presentare l'utilità di questo testo di Aldo De Matteis che è il collega massimo esperto, fanno il giudice del lavoro in materia di infortuni e malattie professionali. E poi con quest'opera lui ha ripercorso un po' tutto la ricostruzione dei nodi problematici della disciplina e quello che si apprezza particolarmente in quest'opera è la sua chiarezza, lucidità, sistematicità, per cui ritengo che anche per gli addetti al lavoro possa essere un'opera molto interessante. Bene, la ringrazio molto, salve.